ragazzi buongiorno allora vi devo dire solo una roba grazie comunque per le visualizzazioni vi volevo dire che siamo riusciti ad arrivare a 200 visualizzazioni in un video coraggio 100 visualizzazioni per un prossimo video e faremo la bacchettuna cioè come si fa la matriciana vedrete vi aspetto vi aspetto e vedrete ragazzi che sarà una sorpresa però 100 visualizzazioni entro domani mamma mia le vedrò volare le vedrò volare ciao ragazzi ciao mi raccomando 100 visualizzazioni entro 24 ore ciao